Tutto pronto per il via alle due misure più care al governo gialloverde a cominciare dal reddito di cittadinanza il cui testo dovrebbe uscire nelle prossime ore e passare al vaglio dei tecnici del governo. Chi è in condizione di povertà a partire da aprile 2019 potrà chiedere un patto per il lavoro che impone l'impegno alla formazione, alla ricerca attiva del lavoro e all'accettazione di offerte lavorative. Per richiedere il reddito di cittadinanza si deve essere cittadini residenti in Italia in maniera continuativa ad almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda. La prima offerta di lavoro sottoposta nei primi sei mesi potrà arrivare al massimo da 100 chilometri di distanza dalla residenza alla bozza fissa poi a 250 chilometri la distanza per la seconda proposta mentre dal dodicesimo mese l'offerta potrà essere sottoposta da tutta Italia. Si lavora anche sulla riforma della Fornero in base alla bozza del decreto sarebbero circa 430 mila i dipendenti che quest'anno potrebbero andare in pensione con quota 100 perché hanno almeno 62 anni d'età e 32 di contributi ma si tratta ancora di una platea potenziale. Ma nell'agenda della maggioranza anche altri temi come la legittima difesa tema fortemente voluto dalla Lega che spinge anche per le autonomie mentre 5 Stelle sono alle prese con la questione trivelazioni nel Mar Ionio con il Ministero dello Sviluppo Economico che le autorizza e quello dell'ambiente invece che frena.